De Tranquillitate Animi Aforismi per una vita saggia Arthur Schopenhauer In una pagina del De Tranquillitate Animi che qui cade a proposito, Seneca descrive mirabilmente la vita vana e irrazionale di quelli che senza motivo e senza costrutto corrono freneticamente dalla mattina alla sera. Perché tanto affannarsi? Non lo sanno neppure loro stessi. A vederli così agitati si direbbe che debbano andare a spegnere un incendio e invece girano inutilmente. Costoro fanno pietà, dice il grande filosofo latino, e ricordano le formiche che vanno su e giù per gli alberi arrivano fino alla cima e poi ridiscendono, sempre senza scopo. Veramente il cammino incessante delle formiche sembra vano solo a chi non conosce la loro vita. Esse hanno sempre uno scopo ben preciso in quanto sono mosse unicamente da bisogni naturali e necessari. Vano è solo l'agitarsi frenetico degli uomini perché agiscono quasi sempre per bisogni né naturali né necessari. Commento Non è vano nemmeno l'agitarsi frenetico degli uomini come niente è vano nella legge perché agli uomini nel loro esperire serve l'agitarsi frenetico. Grazie a tutti.